Una lunga maratona notturna al Parlamento irlandese mentre manifestavano sostenitori e oppositori della legge sull'aborto. Il Parlamento non è giunto a una decisione, la seduta è stata aggiornata ad oggi e forse stasera la proposta potrebbe essere adottata. Il primo ministro Enda Kenny deve far fronte a un gruppo interno al Partito Conservatore contrario alla legge che renderebbe possibile l'interruzione di gravidanza nel caso in cui la salute della donna è in pericolo. Kenny ha raccontato ai deputati di aver ricevuto feti di plastica e lettere di protesta scritte col sangue. Il dibattito nel paese cattolico aperto 20 anni fa da una sentenza della Corte Suprema a favore della legalizzazione si è riacceso lo scorso anno con il decesso di una donna cui era stata negata l'interruzione di gravidanza anche se il feto era morto.